Avvocato, ma come sei vestito? Niente qui proviene dal mondo delle modernità. Ciò che non esisteva nell'anno 1000 non esiste nel regno. Nell'ora della fine nominò mio figlio Giacomo, erede al trono e mio successore. Perché papà ha lasciato tutto a me? Ma perché ha lasciato tutto a me? Ma perché ha lasciato tutto a me? Ma perché mi ha lasciato tutto a me? Ma che cazzo ve ne frega? Un regno medievale sulla salaria. Sire! L'avete preso in più a petto, Sire? È un miracolo. È un miracolo sì. Io tiro la freccia da là e tu esci dall'altra parte. Me ne accordo, no? Ha sentito il testamento? Se crepano diventi proprietario di tutto quanto. Ammazzamoli tutti. Gli devi amare a capoccia. Come era vista l'omosessualità nel regno di mio padre? Io l'avevo capito, sai? Ma che è? Cari froci. Adesso io paro subito un editto per far diventare tutti i froci, così se davamo il pensiero... Avvocato, non è proprio giornata, eh? Oddio, oddio, avvocato, lei si è perso Francesco Totti. Chi?